La Mediateca regionale pugliese e delle biblioteche di quartiere francesi. Aperto ai bambini come agli anziani, pronto ad accogliere donazioni private per così arricchire il suo già prezioso fondo che al momento comprende oltre 3.100 titoli tra libri e riviste, 409 fra film, video ed altri supporti adobesivi, 27 titoli tra 35 mm e 16 mm e soprattutto più di 33.000 manifesti cinematografici originali. Tra i servizi offerti l'accesso al Mlol, il primo network italiano di biblioteche digitali pubbliche, consultazione libera di video, musica, ebook e quotidiani in 40 lingue diverse. La Mediateca sarà aperta da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 20. A conclusione della serata, dopo la proiezione di un documentario sulla funzione sociale delle biblioteche pubbliche, un DJ DJ set decisamente coinvolgente e un bel concerto di Carolina Bubico.